Seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Gozzano che non riesce a muovere la classifica. I rosso-blu sono stati sconfitti 1-0 al Piola di Vercelli dalla Pistoiese che ha approfittato di una delle poche occasioni da gol create dalle due squadre nell'arco dei 90 minuti, segnando al settimo della ripresa con più. Primo tempo abbastanza bloccato, al tredicesimo c'è un tiro insidioso di Messias, al trentesimo ancora il Gozzano in avanti con il cross di Evans anticipato all'ultimo Libertazze che già pregustava la deviazione sotto misura. Nella ripresa la Pistoiese trova il gol al settimo con Più che mette dentro una corta respinta di Casadei, non impeccabile. Nella circostanza il Gozzano ha subito la rete, ci prova al cinquantottesimo è Palazzolo a far scorrere qualche brivido alla difesa degli Arancioni, al sessantacinquesimo invece colpo di testa di Rolando da ottima posizione. Questa è l'occasione più grande costruita dal Gozzano nell'arco dei 90 minuti di gioco. Nel finale il Gozzano spinge, ma è la Pistoiese ad andare vicina al raddoppio all'ottantanovesimo quando Casadei si riscatta salvando su Picchi. Ci sono quattro minuti di recupero, un paio di mische, non succede più nulla e il Gozzano è sconfitto. 1-0.